Omega Speedmaster Mark D, un'icona dell'evoluzione orologera. L'orologio da polso Speedmaster Mark D, rappresenta un punto di incontro tra storia e innovazione nell'ambito dell'orologeria. Uno dei tratti distintivi dello Speedmaster Mark D, è il suo design futuristico e accattivante. La cassa in acciaio può avere forma tono, la lunetta con scala tachimetrica e il quadrante colorato lo distinguono all'istante dagli altri orologi. Il vetro zaffiro antiriflesso protegge il quadrante e conferisce un tocco di modernità all'orologio. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante abbiamo, il cronografo su due subquadranti, il datario a finestrella a ore 6 e dei date a ore 3 con due finestrelle vicine. Possiamo anche vedere il contatore dei piccoli secondi a ore 9. Numerose celebrità hanno indossato lo Speedmaster Mark D, abbinandolo ai loro outfit sia che gioche formali. Questo orologio è stato scelto da personaggi famosi per il suo design accattivante e il suo status di icona nella storia dell'orologeria. Sebbene lo Speedmaster Mark D non sia stato direttamente coinvolto nella missione lunare, fa parte della stessa famiglia di orologi che è stata indossata dagli astronauti sulla Luna. Il suo legame con la storia spaziale aggiunge un tocco di avventura al suo fascino. L'orologio Speedmaster Mark D è diventato una scelta tra gli appassionati di orologeria e gli amanti dello stile vintage. La sua combinazione di design unico e tecnologia moderna lo rende un pezzo desiderabile per chi cerca un orologio con un'anima unica. In conclusione, lo Speedmaster Mark D è molto più di un semplice orologio da polso, è un'icona dell'evoluzione orologera, un ponte trapassato e presente. Con il suo design unico, la sua precisione cronografica e il suo ruolo nella storia spaziale, lo Speedmaster Mark D continua a catturare l'immaginazione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo. In sintesi, lo Speedmaster Mark D è un capolavoro di design e ingegneria, una testimonianza dell'innovazione continua di Omega nel mondo degli orologi da polso. Con il suo stile distintivo e le sue prestazioni affidabili, questo orologio continua a guidare l'evoluzione dell'orologeria, dimostrando che l'eredità di un'icona può essere reinterpretata in modi sorprendenti e avvincenti.